Buongiorno a tutti, oggi vi volevo parlare della caccia de albata, della famiglia delle mimosacee, sto parlando semplicemente della mimosa, ma non dell'arbusto ma del fiore reciso, infatti vi volevo dare due o tre suggerimenti, rinnovare il taglio del gambo, mettere della bella acqua fresca, magari potete aggiungere delle gocce di limone per correggere l'acidità, basteranno una decina di gocce per litro, oltre questo naturalmente non vi dimenticate di non rimuovere il cellofan o la protezione per ovviare alla naturale ossidazione, con questi piccoli accorgimenti la vostra mimosa durerà molto di più e sarà bella e ve la goderete per molto più tempo, vi aspettiamo in via Roma 19 a Montegrotto Terme per l'8 marzo, mi raccomando comprate presso di noi commercianti e nelle fiorerie specializzate, grazie a tutti a presto